Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma e magistrato con pluriannale esperienza di diverse forme di criminalità organizzate. Buongiorno, grazie. Penso di poter assicurare di essere più breve e in compenso non sarà un intervento particolarmente strutturato e articolato come quello che mi hanno preceduto. Il prima cosa che volevo dire, cercherò di andare un poco per flash per guadagnare il tempo perduto, e riallacciandomi a una cosa che ha detto Giovanni Fiandaca all'inizio, certamente corretta, che dice che non è tanto oggi il momento del processo penale quanto della prevenzione. E infatti noi che abbiamo fatto parte della Commissione Fiandaca 2, è la seconda in tema, alla fine ci siamo ridotti a parlare soltanto di due cose, l'autoriciclaggio e il 416-T, nel frattempo venendo scavalcati nei termini che sono stati detti dal Parlamento. Il che tutto sommato fa pensare che grandi spazi di modifiche normative sostanziali non ce ne siano. Io sono d'accordo, siamo stati d'accordo a non toccare il 416-Bis sia per timore di dare occasione a scretolamenti pericolosi, sia perché secondo me, che ho il privilegio come pochi di avere fatto, raggiunto per tanti anni a Palermo, il procuratore a Reggio Calabria e ora a Roma, forse dovremmo prima cercare di saperne di più di che cosa sono le mafie fuori dalla Sicilia, che è il paradigma a cui tutti continuiamo a pensare quando parliamo dei 416-Bis e poi magari fare un'altra legge o modificare quella che c'è. Però, ed è altrettanto pacifico, l'importanza delle misure di prevenzione, di cui io poi peraltro sono un affezionato, come dire, attivatore. Però io vorrei, riportando su questo, su quello che dice Pier Giorgio, vediamo la concretezza delle cose, ricordare a tutti, molto modestamente, che se non c'è processo penale, cioè se non ci sono indagini penali, a tempo due anni finiscono le misure di prevenzione, perché non è che le misure di prevenzione nascono da sole, le misure di prevenzione nascono in quanto prima c'è un'indagine penale, su questo dobbiamo esserne consapevoli, lo sappiamo tutti, lo ricordiamo e andiamo avanti. Quello che in una specie di accordo informale, che naturalmente nessuno poi rispetta, io avrei dovuto, di cui io mi sarei dovuto occupare, era l'autoriciclaggio, ne ha parlato molto bene, ovviamente, il professor Inzolera, e quindi io vado per sintesi. È pacifico che sia nella prima introduzione, quella che era collegata ai quattro reati gradi, sia con la modifica del 91, sempre al rimorcheto di convenzioni internazionali, è stata esclusa 648 bis e 648 terre. La responsabilità dell'autore del reato presupposto, il professor Inzolera ha fatto, ovviamente ha detto molto meglio di come potrei mai dire io, i motivi che stanno sotto questa esclusione e la possibilità che ci sia un rapporto di sussidiarietà fra le due norme, a volte il principio del nebbis in idem sostanziale, con la divieto di punire due volte lo stesso fatto, altre volte si parla del post-factum non punibile o del nemo tenetur se detegge. A me sembra, quindi c'è un intero sbarramento, chiamiamolo dottrinale, senza dare contro questa ipotesi di punire l'autoriciclaggio. A questo sbarramento corrisponde dalla parte, come è stato detto, di un'invocazione continua, ecco, come se l'incriminazione dell'autoriciclaggio potesse essere la panacea di tutte le nostre lacune operative, e dall'altro c'è un dato statistico, che non è stato detto, lo dico io, di una estremamente poco frequente, diciamo così, applicazione delle norme sul riciclaggio esistenti, 648 bis e terra. Pare che siano una settantina le sentenze di Cassazione, in cui vanno tolte una buona parte, più della metà, che si riferiscono al cosiddetto taroccamento dei veicoli, dei motociclaggio, quindi saremo fra le 20 e le 30. Quindi sembra anche in questo caso che stiamo parlando del nulla, il che forse è pure vero, però cominciamo a rifletterci da una prospettiva un poco diversa, sempre la prospettiva che io dico del marciapiede, cioè di chi fa le indagini e cerca di iniziare processi, che poi arriveranno alle vette, ormai non più della Cassazione, ma della Corte Europea che domina su di noi. In realtà, allora a me sembra che all'inizio il problema non si pose, perché visto che si poteva avvenire il riciclaggio solo in relazione a quattro reati di estrema gravità, rapina aggravata, strazionata grazie a queste persone, è chiaro che non aveva senso pensare di punire un'altra volta reati già puniti con pene altissime. Però era chiaro che rimaneva il disvalore penale del fatto, tanto è vero che si è sempre pensato di punire gli altri. Io mi permetto di dire che il rebus existantibus, in attesa di ulteriori interventi della Corte Europea o di chissà chi, alla fine però c'è una dose di ipocrisia in questo sbarramento dottrinale, perché finora è rimasto intatto il povero, dico io, il povero 12-6 e 12-5 della legge del 92, che il professore ovviamente ha ricordato, io mi permetto di leggere le prime due righe, salvo che il fatto costituisca il più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, bene o altre utilità, al fine di continua, è punito da due a sei anni. Ora mi pare evidente che chiunque attribuisce fittiziamente sia un'ipotesi di autoriciclaggio, mi pare pacifico ed è altrettanto certo documentalmente che la Corte Costituzionale ha rigettato l'eccezione che a suo tempo venne proposta. Quindi abbiamo un sistema normativo in cui c'è uno sbarramento dottrinale che invoca tutti i principi di questo mondo contro l'autoriciclaggio. Una pubblica opinione, diciamo, dei magistrati connessi che lo invoca come la panacea e un povero 12-5 che negli anni piano piano è cresciuto rigoglioso, io sono un affezionato cultore del 12-5, se l'ho importato nei vari uffici in cui mano a mano mi sono spostato dove nessuno lo conosceva ed è cresciuto di numero di applicazioni e di importanza di applicazioni. Quindi se finora questo 12-5 è il risultato intatto ed è un autoriciclaggio, su questo non ci può essere discussione, forse quello sbarramento non è solido come sembra. La verità, secondo me, molto modestamente, molto da operatore di marciapiede come sono io, è che il buonsenso comune si ribella, prima ancora di quello giuridico, all'idea di punire con una pena fino a 12 anni, da 4 a 12 anni, la condotta di chi? Per esempio ha commesso una truffa, un'appropriazione in debita, un reato minimo, punito a sua volta 3-4 anni, secondo i casi, e per esempio poi va, come pure dice la Cassazione, a versare in banca il denaro ricavato, il che obiettivamente anche a me appare assurdo, o a monetizzare l'assegno ricavato dalla Commissione Reale. Penso che nessuno di noi, invece, si urterebbe particolarmente, sentirebbe leso il suo senso di giustizia se un narcotrafficante, che pure già dovrebbe prendersi circa 20 anni di suo per l'associazione mafiosa, investe i milioni di euro ricavati dal narcotraffico realizzando villaggi turistici, catene di ristoranti, le pizzerie a surta fama a Roma o a Napoli, o magari una bella discarica in un paese diciamo non oltre l'est europeo, con una serie infinita di operazioni che durano l'arco di 5, 10, 15 anni, superano la morte di alcuni dei complici, eccetera. Io credo che i complici poverini, fra virgolette, nel frattempo dovranno essere arrestati, puniti, processati, eccetera. Io penso che di fronte a questo ipotetico narcotrafficante che investe questi ipotetici milioni il senso di giustizia di nessuno di noi si ribellerebbe particolarmente se lo processassimo prima e possibilmente dico io condannassimo anche per riciclaggio. Se questo è vero diventa un problema di tecnica legislativa di istinguere le ipotesi minimali diciamo così per approssimazione da quelle più gravi. E poi se abbiamo i tre minuti diremo se no rimandiamo agli atti della commissione fiandacca. E allora io mi chiedo che cosa spiega che cosa c'è dietro questo apparente contrasto fra lo sbarramento dottrinale come continuo a chiamarlo per mera comodità e la illusione della panacea e la pratica operativa. Non basta la risposta ce lo chiede l'Europa che peraltro non è neanche vero semmai ce lo chiede il GAFI e l'OX ma insomma non mi pare che questa sia comunque una risposta sufficiente. Noi riteniamo che l'incriminazione e l'autoriciclaggio fatta con prudenza con un adeguamento di sanzioni perché certo non si possono dare 12 anni all'autoriciclatore o autorreimpiegatore come pure abbiamo coniato questo bruttissimo neologismo di un reato di truffa punita fino a tre anni quindi modificando le sanzioni della pena limitando l'uso a chi reimpiega nel campo speculativo finanziario dico con queste limitazioni che si trovano nel progetto Fiandaca dico io credo che l'incriminazione dell'autoriciclaggio potrebbe darci una mano d'aiuto non è la panacea io dico una mano d'aiuto a fare delle indagini partendo dal colpevole base perché se il colpevole base non è incriminabile non puoi neanche fare le indagini è inutile avere un narcotrafficante che ha 50 milioni di euro o di dollari il dollaro aveva un senso in quanto verosimilmente pagate in dollari la cocaina se poi non ci puoi fare le indagini sopra sul tema dell'autoriciclaggio e queste indagini potrebbero servire sia al processo penale sia in prospettiva a quello di prevenzione auspicato giustamente da Giovanni Fiandrec dall'altro lato su un piano più squisitamente sostanziale con riferimento proprio alla criminalità mafiosa la punibilità e l'autoriciclaggio può essere uno strumento prezioso per contrastare quello che oggi a parole tutti siamo d'accordo è l'aspetto più pericoloso delle mafie la ricchezza quello che diceva anche Pier Giorgio la capacità di espansione sul piano economico finanziario è connessa a questo strettamente la capacità di infiltrazione e condizionamento dell'economia e della politica del paese gli esempi che ho fatto prima villaggi turistici pizzerie non sono di scuola sono tutti presi da processi che hanno un nome e cognome se uno li volesse dire e su questo io mi permetto di riprendere con un visualo diverso il ragionamento che faceva all'inizio il professore Insole era sui dati statistici gli omicidi e le ricchezze della mare intanto noi siamo lietissimi che siano diminuiti gli omicidi ma non credo che questo abbia nulla a che fare con le presenze o non presenze della mafia a parte quello che si diceva e credo si continui a pensare a Palermo che se la mafia è forte non ha bisogno di ammazzare io non mi pare eccessiva pure questa indicazione però è chiaro che il numero degli omicidi non è indicativo della presenza o non presenza della mafia in questo che certamente non è diminuita rispetto a 20 o 30 anni i dati statistici e poi permettetemi io dico sempre sono siciliano e orgoglioso di esserlo noi risentiamo ancora come cultura di chi ragiona su queste cose di una visione eccessivamente palermocentrica della situazione per merito principalmente di quasi tutti quelli che siamo in questa sala che siamo siciliani e quindi siamo da più tempo impegnati in queste riflessioni e anche la massa di dati di conoscenza è molto maggiore in sicilia e a palermo in particolare rispetto alla calabria non parliamo di roma o di genova per dire sul dato statistico io sono assolutamente d'accordo col professore in solera quando dice gli unici dati certi sono quelli dei sequestri e delle confische gli altri sono dati che io in moltissimi interventi ho definito copiando a mia volta da un altro studioso valutazioni spannometriche cioè fatte a spanna 60 miliardi 100 miliardi sembrano numeri tirati assolutamente a casaccio però fatta questo discorso sui dati statistici che non sono in questi termini attendibili un altro istituto che gode molta assolutamente fama di serietà valuta invece 13 miliardi non il fatturato perché la mafia non fattura i ricavi delle mafie però che oggi le mafie siano una presenza pesantissima nell'economia ormai del paese non soltanto delle regioni meridionali dico in due anni a Roma sono stati sequestrate 500 aziende in meno di due anni per la verità a Milano i numeri sono anche maggiori qualche cosa significa la presenza tutto quello che emerge dalle indagini non credo che possiamo mettere in discussione il legame mafie economie e allora sotto questo profilo il nostro auspicato riciclaggio ci può dare una mano autoriciclaggio e soprattutto autoreimpiego ci può dare una mano d'aiuto ripeto non è la panacea assolutamente i numeri saliranno un pochettino ma non saranno migliaia di processi sicuramente ancora più importante secondo me e vado per sintesi perché lo ha detto bene Pier Giorgio quello che è attorno alle mafie ma che secondo noi ormai molto spesso è intrecciato con le mafie cioè la criminalità economica noi a Roma stiamo contestando vedremo il GIP che ne penserà per la prima volta che credo a Roma da molti anni se non da sempre una bancarotta gravata dall'articolo 7 quando parliamo aggiungo l'evasione fiscale è stato detto da Pier Giorgio la corruzione intendendo per corruzione non soltanto quella del reato di cui è all'articolo ma in genere i reati di pubblica amministrazione le grandi frodi in danno dello Stato e di enti pubblici in generale permettetemi di portare l'esempio romano perché forse altrove mentre ovviamente Palermo ha tutto da insegnare sul tema del 416 bis può valere la pena di perdere altri 30 secondi sui numeri romani sembra restando che se emerge qualcosa nel processo bisogna moltiplicare perenne la realtà di cui il processo è solo la punta dell'aio quando io parlo di bancarotta fraudolenta o di evasione fiscale di cui valga la pena di occuparsi di cui stiamo parlando parliamo di centinaia e centinaia di milioni una bancarotta di 800 milioni di euro ovviamente in cui il creditore è soltanto lo Stato o per crediti fiscali finanziari di vario tipo e natura oppure perché la parte offesa di una frode a monte della bancarotta quando io parlo di evasione fiscale parliamo di 500 600 milioni di euro sono numeri che a me io ho detto un'altra cosa è l'equivalente della minimo a me che sono impiegato statale in attesa di aver tagliato anche lo stipendio francamente mi colpiscono un pochettino e su questo io devo dire che un segnale negativo oltre quelli che ha indico l'avvocato Spigarelli avrà un ulteriore motivo di polemica sicuramente un ulteriore segnale negativo che io percepisco in questo continuo processo legislativo cui assistiamo e lo rinvengo nel disegno sulle misure cautelari sulla riforma della disciplina misure cautelari che è in discussione ieri se è difficile pure seguirli ieri c'è stato un passaggio ulteriore non io non voglio fare l'esame il disegno non è questo è la sede c'è moltissime delle cose che sono previste in termini di maggiore attenzione di minore il ricorso alla carcere il carcere come extrema razio mi trovano pienamente d'accordo e le sottoscrivo però ci sono due cose una un 275 terzo periodo qua è difficile pure tenere conto dei periodi che riduce ulteriormente andando avanti in quel processo innescato dalla Corte Costituzionale cui accendendo il professor Inzolera diciamo approssimativamente la presunzione di pericolosità e quindi la necessità di misure cautelare in carcere per tutti i reati del 51 3bis certamente è frutto anche del fatto che in questo 51 3bis si vanno infilando reati che non c'entrano niente con la mafia vengono applicati alla DDA che non ha nessuna specializzazione di materia creando una grandissima confusione però è un segnale pericoso ma a me soprattutto in questo momento e nel contesto dei ragionamenti che stiamo facendo stamattina preme segnalare un mezzo comma un periodo che è stato inserito in uno dei vari passaggi parlamentari direttamente in aula senza discussione e senza nessuna attenzione della stampa sarebbe il nuovo articolo 2bis dell'articolo 275 dice non può essere applicata la misura della custodia in carcere né quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e questo c'era è un ulteriore allargamento di una norma che c'è o se ritiene che all'esito del giudizio quindi fra chissà quanti anni l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656 comma 5 questo significa le cosiddette misure alternative qui abbiamo un completo miscuglio non mi viene una parola migliore meglio una confusione totale fra le esigenze cautelari che ci sono e inutile dire che c'è un giudice un tribunale che è una Cassazione che le devono valutare che i PM cattivi non possono arrestare nessuno giustamente fra le esigenze cautelari che sono il pericolo di fuga il pericolo inquilamento della prova il pericolo di riterrazione e la prognosi che si potrà fare di rieducazione necessaria o meno alla fine di un processo che durerà bene che vada alcuni anni tenete conto che queste misure alternative si possono dare con una pena è inflitta di quattro anni oggi c'è un'ulteriore contraddizione interna a questo comma perché dice non può essere applicata né la misura della custodia in carcere né quella degli arresti domiciliari a questa fattispecie quando poi fra le misure alternative è prevista quella della detenzione domiciliare cioè abbiamo la contraddizione che oggi in serie di indagini cautelari indagini preliminari scusate non si possono dare quegli arresti domiciliari che fra 4-5 anni si potranno dare con la pena definitiva mi pare una contraddizione poco spiegabile dice ma perché ti prende tanto di questo problema forse non ci siamo resi conto quando è stato approvato poi per me va benissimo nel momento in cui sarà applicato cioè sarà approvato non applicheremo nulla a questi che questo significa tagliare fuori non solo tutti i reati cosiddetti di colletti bianchi perché è chiaro che nessuno dei colletti bianchi oggi si può immaginare neanche lontanamente punito con una pena superiore a 4 anni e va bene non solo tutti i reati di criminalità economica di cui ho parlato la banca rotta da 800 milioni l'evasione fiscale da 600 neanche gli arresti domiciliari per questo ma forse quello che non è stato pensato neanche tutti quei reati da strada cioè a meno che non sia il marocchino il tunisino che viene processato arrestato processato per direttissima non si fa l'appello l'appello comunque si tratta rapidissimamente e diventa recidivo nel certificato penale tutto il resto compreso i reati predatori compresi i reati che suscitano l'allarme sociale compresi tutti i reati anche di rapina sia chiaro a meno che non si vada col Kalasnikov dentro una banca rientreranno in questa fase io spero che il Parlamento ci mediti 30 secondi di più per evitare fra sei mesi o fra anche meno al primo caso eclatante in cui succederà l'allarme sociale lo scandalo perché non si interviene le strade insicure non si può uscire di casa siamo costretti a barricarci nel nostro quartiere facciamo le ronde eccetera dover ricordare che la persona in questione non può essere arrestata detenuta neanche agli arresti domiciliari con o senza braccialetto perché c'è l'articolo 656 perché fra 4-5 anni potrebbe essere applicabile l'articolo 656 comma 5 grazie ma siamo in ritardo rispetto un po' in ritardo rispetto al programma e dovrei asserermi perciò da fare qualsiasi commento rispetto a quanto ha detto Pignatò le cose che ha detto in materia di ciclaggio però mi sembrano molto ragionevole la proposta che abbiamo esitato come commissione di cui lui faceva parte in realtà è stato il frutto di un lavoro tormentoso ma alla fine c'è sembrata una via di mezzo equilibrata è importante anche l'accenno fatto nella parte finale da Pignatò alla riforma in discussione delle misure cautelari per le ragioni che ha detto per le ragioni